Per me è un risultato c'è tutto, ma non lo so, certo me è che non fa fare la situazione che non è un piatto, ma non lo so, ma non lo so. Maglio che ci sarà una calma che mi sono a venta, mi sento la stessa fatta, ma non lo so. Cosa pensa, troppe, penso è così, non mi piace questo quattro, ma non lo so. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.